Infine, ci siamo innamorati del ruolo del fiorista nella serie Ascavada e oggi vi portiamo 10 curiosità di Andercel che quasi tutti non conoscono. Nonostante sia senza dubbio una delle donne più belle e ammirate della Turchia e abbia un'enorme base di fan, ecco 10 fatti interessanti su Andercel che siamo sicuri anche i fan più radicali non conoscono. Andercel è nato il 24 novembre 1993 a Bandarma. Ha interpretato il suo primo ruolo da attore nella serie comica turca in 5 parti LGN Dershane. Andercel è arrivata seconda al concorso di bellezza Miss Civilization of the World tenutosi in Azerbaijan nel 2015. Andercel è specializzato in arti tradizionali turche presso la minarsina Infine Arts University. Gli hobby preferiti di Andercel sono lo sport e la pittura. Il sorriso di Andercel riconosciuto come patrimonio nazionale in Turchia. La sfida più grande per Andercel sarà interpretare un personaggio schizofrenico. Ama gli animali e ha due gatti di nome Noce e Gris. Andercel ha iniziato a guadagnare 400 euro per episodio nella serie tv Goonies in Kzlar. La fiducia in se stessa di Andercel è alta e la cosa che la fa incazzare di più è perdere. La fiducia in se stessa di Andercel è alta e la cosa che la fa incazzare di più è perdere. La fiducia in se stessa di Andercel è alta e la cosa che la fa incazzare di più è perdere.